Trinidad Trinidad tornero a fronte finta il tiro Trinidad tornero a fronte Trinidad tornero a fronte tornero a fronte quindi dalla parte opposta riprendono i portuguesi fallo su Trinidad viene controllato dalla difesa portoghese comunque una ottimazione di Stefano ora attenzione a questi c'è il gol di Trinidad dopo una combinazione con Roccia che tenta una triangolazione molto molto difficile palla persa Trinidad e prova il tiro il tiro da metà campo che supera Citterio il tiro 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.